scoprire le icone accostare le icone conoscere le icone non c'è solo il rapporto diretto con la tavola linea con la tavola pittorica lo strumento privilegiato per arrivare accanto all'icona e individuarne la profonda spiritualità sono i libri i volumi illustrati che collezione orler nel tempo ha pubblicato con un grande sforzo editoriale per aiutare il grande pubblico a conoscere davvero da vicino il mondo dell'icona opere uniche a tiratura limitata introvabili sul mercato e che ora collezione orler vi propone come possibilità per regalarvi o per regalare ad un prezzo eccezionale un'occasione unica per arricchire la vostra casa la vostra biblioteca la vostra famiglia ma soprattutto per conoscere l'icona e per amarla di più